Ciao, sono Cecilia, 19 anni. Ciao, sono Marta, ho 17 anni e noi siamo parte del progetto Name Climate Change. Ci siamo resi conto che la disinformazione dei nostri coetanei a proposito di questo tema è derivata specialmente dal fatto che non si sentono toccati in prima persona appunto da quello che è il problema del cambiamento climatico. E quindi l'intento della nostra mostra e delle nostre attività è quello appunto di far capire quanto l'effetto del cambiamento climatico possa essere sia lontano ma anche più vicino di quanto in realtà pensiamo. Fondamentale nella costruzione della mostra è stata sicuramente la parte di formazione che ci ha permesso di acquisire le competenze necessarie alla trattazione consapevole di queste tematiche. La nostra idea è quella di creare una mostra interattiva seguita da un'attività coinvolgente così da far rendere conto a chi parteciperà all'evento quanto le nostre scelte abbiano un peso su di noi, sugli altri e sul mondo. Sicuramente per la condivisione del nostro evento e comunque delle tematiche di cui andremo a trattare sarà fondamentale l'utilizzo dei social che per noi appunto è il pane quotidiano e quindi ci aiuta ad arrivare a più giovani possibile e l'utilizzo dei social secondo noi è anche importantissimo perché aiuta a far passare questo messaggio non come una lezioncina noiosa ma proprio come una cosa attuale e importante come tutte le altre. Grazie.